Buonasera a tutti, siamo in piazzetta ragazzi circondati da tanti amici che arrivano e dopo scopriremo da dove, ma intanto la mia curiosità si è fermata dietro alle mie spalle, perché in questo momento è così, un po' distratto a parlare con la nostra Miss Nadia, ma noi tra pochissimo non ti investiremo, vediamo un attimo se è il caso, scusate se vi interrompo, magari per venire, gestamente rispettatori, ora si può bere un po' di più, va bene intanto noi beviamoci su, ciao come ti chiami? Io mi chiamo Rob Ernest Drake, l'ultimo sopravvissuto, l'ultimo dopo Brevard, scusa Roberson ma cos'è che ti contraddistingue tale? C'è qualche cosa che potresti farci vedere per convincerci, perché? A inizio serata direi di no magari, però vedo che sei conciato in una tal maniera da poterti definire un vero scuzzese, quindi invitiamo il nostro amico Mr. Dave a fare un'inquadratura totale, oppure solamente indicando le parti più curate e ovviamente che lo distingueranno durante la serata del convento. Allora, quale bonvento ti porta al convento? Quale bonvento? Il mio addio è al celibato! Oh, bene sì, è arrivato! È realizzato da quanto tempo? Questo è da chiedere a questa ciurma di... Non si è informato, è stata tutta la sorpresa! Sempre sorpresa! Ottimo, allora, be' riuscita! Non lo so, c'era un uccellino che arrivava. Allora, Robinson, da dove arrivi? Da dove arrivi? Da dove arrivi? Tanto siamo distratti. Allora, a me lo tentano. Da dove arrivi? Arrivo da Bergamo! A Bergamo e ti sposi con? Con Valentina il 16 giugno. A Bergamo? A Bergamo sempre! Ok, a pranzo o cena? O a primo pomeriggio? Cena, cena! Cena! Ma inteso da cena o a pranzo ti sposi? Com'è? Quando è che ti sposi? Alle 13 o alle 16? 16, 16! Ah, alle 16 o la tarda pomeriggio? Sì, sì, sì! Ok! Allora, Robinson, una domanda facilissima. Cos'è che ti ha portato e ti ha spinto a dire sì, anzi, anzi, meglio ancora, a chiedere sì a Valentina? Direi che quando incontri la tua perfetta metà, tutto viene di conseguenza. Bravo, mi piace. Non tutti rispondono così. A volte sono vaghi, a volte si imbarano, si rallenta il microchip, capito? Bravo! Allora, facciamo tanti auguri al nostro amico Robinson, che è circondato da altri amici che in questo momento stanno veramente curiositi della situazione. Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Salvevo Robinson e Valentina da Bergamo che si sposano. Il 13? Giugno! Tutti invitati. Auguri! 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 Auguri!